Fondi pari a 50.000 euro anche per il comune di Monte Corice, le risorse che spettano ai comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, come stabilito dal Ministero dell'Interno, sono stati assegnati per l'anno 2019 ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. Il comune costiero, guidato dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha deciso di investire tale finanziamento per la messa in sicurezza di un tratto di lungomare in località Capitiello e della frazione di Agnone, attualmente interdetta al traffico in quanto un tratto della careggiata e parzialmente crollato. Tale dissesto, infatti, è stato causato dall'insieme dei numerosi eventi di moto ondoso avvenuti in più occasioni. Tali fenomeni hanno scalzato la fondazione del muro di contenimento realizzato e protezione della strada, facendo sì che sia stato eroso ed asportato il sottofondo stradale per cui è avvenuto il cedimento della strada. Altro intervento previsto è la messa in sicurezza della passerella pedonale in legno di collegamento Capitello-Pontile con sistemazione delle travi in legno gravemente ammalorate e del parapetto. Attualmente tale passerella è chiusa al transito per il pericolo di crollo dovuto alle travi portanti e parapetto in legno notevolmente ammalorati. Infine, è previsto un intervento di ripristino anche per i piccoli tratti di tappetino in diverse strade comunali che risultano ammalorate.